Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vediamo come funzionano i comuni display alfanumerici e come utilizzarli nei nostri progetti con Arduino. Buona visione! L'utilizzo di un display, ovvero di uno schermo, si rende indispensabile in tutte le applicazioni elettroniche che necessitano di fornire all'utilizzatore informazioni che vanno al di là della semplice indicazione acceso-spento, per la quale bastano delle normali spie. Le tipologie di display disponibili sono svariate. Si va dai vecchi sette segmenti, che nonostante l'età hanno ancora un discreto fascino e aggiungono sempre un tocco un po' retro alle apparecchiature, fino ai moderni schermi OLED in grado di visualizzare praticamente ogni genere di informazione, sia testuale che grafica. A medastrada fra questi due troviamo i display alfanumerici. Questi display sono molto versatili e li troviamo infatti in un'infinità di apparecchiature, dai registratori di cassa ai distributori automatici. Hanno la caratteristica di poter visualizzare sia numeri che lettere e, entro certi limiti, anche della rudimentale grafica, come ad esempio una barra di avanzamento o delle semplici icone. I display alfanumerici vengono normalmente chiamati 1602 o 16x2 perché i modelli più diffusi hanno 16 caratteri disposti su due righe. Esistono però anche modelli differenti che hanno per esempio 20 colonne o 4 righe. Lo schermo è comunemente a cristalli liquidi, con o senza retroilluminazione e può essere di vari colori. Esistono anche dei modelli a fluorescenza, i cosiddetti VFD. Io ne ho usato uno una volta per un progetto in cui mi interessava l'aspetto estetico e devo dire che il risultato è veramente molto bello. Hanno però dei costi proibitivi per cui si utilizzano quasi esclusivamente quelli a cristalli liquidi. Al di là della tecnologia utilizzata o del numero di caratteri, praticamente tutti questi schermi utilizzano lo stesso tipo di interfaccia di collegamento, essendo basati sullo stesso chip di controllo che è l'ITACI HD44780, diventato in pratica uno standard. I collegamenti sono quindi sempre gli stessi e adesso qua li vediamo nel dettaglio. Partendo da sinistra abbiamo i terminali di alimentazione, negativo e positivo, identificati in genere con GND e VCC o a volte VSS e VCC. A seguire il piedino VO. Questo serve per la regolazione del contrasto e in genere viene collegato a un partitore di tensione o a un potenziometro. Abbiamo poi RS, RV ed E che sono i terminali di controllo per la comunicazione parallela e le linee dati da D0 a D7 che costituiscono un bus di dati parallelo a 8 bit. Vedremo che è possibile utilizzare anche solo 4 di queste linee, quelle da D4 a D7. La comunicazione avverrà in questo caso spezzando il byte che verrà inviato 4 bit alla volta. Questo permette di risparmiare 4 linee di collegamento e quindi di semplificare molto il cablaggio. In alcuni modelli troviamo poi due terminali, indicati di solito con A e K, che corrispondono all'anodo e al catodo del led per la retroilluminazione. Vediamo quindi come collegare il display per farlo funzionare. Per prima cosa le linee di alimentazione vanno collegate alla linea 5 volt e a massa. Se lo schermo è retroilluminato, tramite i 5 volt si alimenteranno anche i piedini anodo e catodo, interponendo una resistenza da 330 ohm. Per il contrasto si può utilizzare un normale potenziometro da 10 Kilo ohm, collegato con i terminali esterni al positivo e al negativo di alimentazione. Il centrale andrà invece collegato al piedino VO del display. Il terminale RV va collegato a massa e le linee rimanenti andranno collegate ai terminali d'uscita dell'Arduino. Per chiarezza conviene usare una numerazione sequenziale. Porto quindi dai terminali RS e N che andranno collegati ai piedini D2 e D3. E poi le linee dati, delle quali useremo solo quelle da D4 a D7, che andranno quindi ai piedini 4, 5, 6 e 7 dell'Arduino. E qua vediamo i collegamenti al completo. E ora passo alla realizzazione pratica. Utilizzo la mia solita breadboard su cui ho già posizionato l'Arduino Nano. E ho messo anche i due cavallotti per portare l'alimentazione a 5V sulle linee che corrono lungo la breadboard. Ora metto anche il potenziometro con i terminali esterni collegati rispettivamente al positivo e al negativo. E poi utilizzo questo vecchio display che tengo sempre a portata di mano per gli esperimenti. Come vedete è un po' rovinato ma funziona ancora perfettamente e ha già i terminali saldati e pronti per i collegamenti con la breadboard. Vado quindi a effettuare tutte le connessioni e dopodiché possiamo passare al software necessario per far funzionare il display. Come sempre Arduino dispone già di una libreria adatta al funzionamento di questi dispositivi. Questa libreria si chiama Liquid Crystal per cui vado per prima cosa a includerla nel programma. Posso farlo scrivendo direttamente la direttiva include oppure dal menu sketch include libreria selezionando la voce Liquid Crystal. Ora vado a definire i piedini che è utilizzato per i collegamenti fisici utilizzando delle costanti e assegnando il valore del piedino corrispondente. Quindi per l'RS2, per EN il 3 e per le linee dati i piedini da 4 a 7. Adesso devo creare un'istanza della classe Liquid Crystal. La chiamo disp e come parametri metto le costanti definite sopra nello stesso ordine. E ora nel setup vado a inizializzare il display col comando Begin che come parametri richiede il numero delle colonne e delle righe del display utilizzato. In questo caso metto quindi 16 e 2. Ora per visualizzare il testo si utilizza il comando print. Prima però occorre specificare la posizione del testo e per questo si utilizza il comando set cursor indicando la colonna e la riga di partenza del primo carattere e tenendo presente che la numerazione parte da 0. Per iniziare dalla prima colonna della prima riga metto quindi 0 e 0 e scrivo la prima stringa. Poi mi sposto sulla seconda riga e scrivo qualcos'altro. Infine metto un loop infinito per evitare che il programma continui a rifare le stesse operazioni all'infinito. Dal momento che una volta inviato il testo rimane comunque visualizzato sul display. Ora carico il programma ed ecco il risultato sullo schermo. Se non compare nulla provate a regolare il contrasto perché potrebbe essere anche impostato in modo da non rendere visibile il display. La libreria Liquid Crystal dispone anche di altri comandi ad esempio per cancellare lo schermo o per far scorrere il testo. Sul sito di Arduino trovate tutta la documentazione con la sintassi dei vari comandi. Bene per questo video è tutto. Nel prossimo vedremo come utilizzare questi display con una forma di collegamento molto più semplice che sfrutta solo quattro fili. Se il video vi è stato utile o anche in caso contrario fatemelo sapere nei commenti. Io vi invito a iscrivervi al canale e per il momento vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao a tutti! Ciao!